E quest'oggi la regione scelta al salone del camper dalla nostra inviata per Italia in camper Silvia Basenghi e il Friuli Venezia Giulia che ci propone itinerari slow, tra borghi e vigneti per famiglie, amanti dei sapori autentici ma non solo. Siamo con Marco sullo stand del Friuli Venezia Giulia. Marco, come è organizzata la tua regione rispetto all'accoglienza del camperista? Il camperista in Friuli Venezia Giulia può contare su oltre un centinaio tra piazzole di sosta attrezzate e strutture ricettive che offrono questo tipo di ospitalità a questo genere di turisti. Il territorio essendo molto eterogeneo ti dà la possibilità oltretutto di visitare in pochi chilometri località di montagna, città d'arte, mare, zone collinari e quindi diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Hai qualcosa in particolare da consigliare a un camperista che stia passando per la tua regione? Beh certamente, la regione offre differenti possibilità di fare turismo. Per gli amanti dell'outdoor c'è la possibilità di sfruttare tutte le ciclovie o percorsi ciclabili presenti in regione, una delle quali è la ciclovia Alpe Adria, mentre per gli appassionati del trekking abbiamo differenti percorsi da poter intraprendere, tra cui una delle principali è l'Alpe Adria Trail. Non manca sicuramente una grande offerta a livello enogastronomico con i grandi vini e i prodotti tipici della nostra regione, ma anche tutta una serie di attività legate comunque allo sport, alla natura, alla vita all'aria aperta. Grazie.